Sulmonesi e indios messicani accomunati dalla stessa lotta. Quella della devastazione ambientale è una questione trasversale che unisce gli abitanti della città ovidiana e quelli dall'altro lato dell'Atlantico. Nel caso specifico di Sulmona e del Centro America, la battaglia è contro le infrastrutture del gas. Nel comune in provincia dell'Aquila, nonostante l'ostracismo delle istituzioni locali, SNAM S.p.A. realizzerà una centrale a spinta e compressione con relativo metanodotto lungo la linea adriatica. L'opera sorgerà in località Casapente, in una zona d'elevato rischio sismico al centro dei parchi nazionali abruzzesi dove vivono diverse specie protette. Inoltre è un'opera inutile, sostengono i comitati della Valle Peligna, perché tra utilizzo di energie rinnovabili e su riscaldamento globale la domanda di metano è destinata a diminuire. Secondo uno scenario dell'Unione Europea, se nel 2030 fossero realizzate tutte le opere in cantiere, si arriverebbe ad un'offerta di metano tre volte superiore alla domanda. E poi, come scrive Eni nelle osservazioni al piano decennale SNAM, il costo dell'opera sarà ripagato dai cittadini in 40 o 50 anni tramite l'aumento del costo delle utenze. Situazione simile quella in Messico. Il progetto integrale Morelos, iniziato nel 2011 in cui è implicata anche l'azienda italiana Bonatti, prevede la realizzazione di un gasdotto lungo 160 chilometri che attraverserà 24 comunità. Oggi a Casapente, Sulmona e Messico hanno sancito il gemellaggio in difesa del clima, alla presenza anche di una delegazione del Consiglio Nazionale Indigeno Messicano. Ambizioso obiettivo quello dell'autodeterminazione delle comunità e dei territori in maniera solidale, seppur ai lati opposti del globo, a dispetto, in questo caso, delle multinazionali del fossile. Mientras estos poderosos no escuchan al pueblo, tenemos que escucharnos abajo. Finché questi grandi non ascolteranno il popolo, noi dobbiamo ascoltare quelli che vivono al basso. Quello che c'è non serve, quindi dobbiamo costruire qualcosa di veramente differente. E non è assolutamente certo che quello che chiamano sviluppo ci porterà un vero aiuto. E tutto quello che stanno facendo a partire dai grandi che si riuniscono in alto non porta niente di buono per noi popoli. Ecco per questo che noi diciamo che le cose devono costruire dal basso e qualche cosa di nuovo è differente, diverso. Tra popoli indigeni e non indigeni, tra i lavoratori della campagna e quelli della città, tra uomini e donne, i bambini e bambine. Dobbiamo costruire, come dicono i zapatisti, un mondo dove dentro ci siano tanti mondi. Grazie a tutti i nostri hermani zapatisti, un mondo dove quepano molti mondi. No te amo.